Sono padre Cesare Campagnoli, sono padroco della parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo, re dell'universo a Pescara. Sono un gesuita e presento questo commento alla parola di Dio che ascoltiamo domenica, prima domenica di avvento. Inizia un nuovo anno liturgico. La all'inizio, proprio del tempo di avvento, una meditazione sulla seconda venuta di Cristo. Il tempo di avvento, da una parte, ci aiuta a prepararci alla celebrazione del Natale del Signore, quindi la sua prima venuta, e nello stesso tempo ci aiuta a riflettere, soprattutto nella prima parte del tempo liturgico dell'avvento, sulla seconda venuta di Cristo glorioso alla fine dei tempi, quando Gesù ritornerà nella sua gloria per definitivamente riportare la vittoria sul male, sul peccato e sulla morte e renderci partecipi della sua gloria. Ovviamente, come cristiani, abbiamo questo invito, siamo sollecitati dalla parola di Dio ad avere il nostro sguardo sempre rivolto in alto, rivolto proprio a quello che accadrà quando Gesù Cristo ritornerà nella sua gloria, in modo che la nostra vita sia vissuta secondo quando l'insegnamento di Cristo ci ha lasciato, quello che Gesù Cristo ci ha dato attraverso l'esempio della sua vita e della testimonianza nella Chiesa. E quindi, cominciando con il brano del Vangelo di Matteo, che la liturgia ci propone questa domenica, si tratta di un brano tratto dal capitolo 24 del Vangelo di Matteo, quasi alla fine del discorso escatologico, proprio quel discorso relativo alla fine dei tempi, di quello che succederà alla fine del mondo, che ci fa riflettere e ci pone in questa prospettiva degli ultimi tempi. E che cosa Gesù dice ai Suoi discepoli? Che cosa Gesù dice a noi oggi? Perché la parola di Dio sappiamo che è una parola viva che parla a ciascuno di noi oggi, mentre la ascoltiamo. Gesù introduce in questo brano, direi, tre elementi sulle quali possiamo e siamo chiamati a riflettere. Il primo è, proprio come ci viene presentato all'inizio del brano, è l'imprevedibilità della venuta del Signore, del Figlio dell'uomo, della sua seconda venuta. Avverrà in un momento che non ci è dato sapere, un momento che soltanto Dio Padre conosce. E quindi Gesù usa questa, una parabola per farci rendere conto che questo suo ritorno inaspettato non deve trovarci però impreparati. Ecco, allora fa riferimento alla generazione di Noè. quando tutti vivevano la quotidianità, vivevano in un'apparente tranquillità, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino a un momento in cui inaspettatamente è avvenuto il diluvio che ha sconquassato, portato uno sconvolgimento all'interno della loro vita. Quindi un evento improvviso e quindi questo ci dice, questo è il messaggio iniziale di questo brano del Vangelo, che la venuta dell'uomo sarà una venuta che non può essere prevista ma può essere attesa. Questo forse è il messaggio principale. Non ci importa conoscere l'ora e il giorno, quello che dobbiamo fare è attenderlo innanzitutto con fede. Ecco allora il secondo punto. Il secondo punto Gesù verrà alla fine dei tempi come giudice, verrà a giudicare. A lui è stato dato il potere in cielo e sulla terra e quindi verrà a giudicare la terra, verrà a giudicare ciascuno di noi secondo la nostra condotta. Ecco quindi il secondo messaggio, Gesù giudice. Ecco Gesù viene presentato dall'Evangelista Matteo in questo suo ruolo, in questa sua funzione di giudice della terra. E quindi in questo momento ci sarà una, come ci ricorda anche il Vangelo sempre, il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, una separazione gli uni dagli altri, secondo quanto Gesù ci ha insegnato e cioè secondo come ciascuno di noi vive il suo comandamento, il comandamento dell'amore che è la sintesi di tutti i comandamenti, di tutte le dieci parole che il Signore aveva dato al suo popolo per mantenere l'alleanza. Quindi Gesù giudice che viene a dare a ciascuno di noi secondo le sue opere. E allora passiamo al terzo messaggio, forte, il messaggio finale di questo brano, vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il Signore verrà. E quindi ecco il terzo punto. Gesù dice ai suoi discepoli, dice a tutti i cristiani, a noi cristiani che siamo appunto suoi discepoli, di vegliare, di evitare di fare ciò che è accaduto a quel padrone di casa, il quale non era abbastanza vigilante per fare in modo che il ladro che veniva di notte, in un momento inaspettato, gli squassasse la casa. Ecco Gesù usa questa parabola molto efficace, molto chiara, che ci fa, che ci fa, che ci sollecita a rispondere molto chiaramente all'invito di Gesù vegliate, siate pronti. Quindi vegliate e tenetevi pronti, che cosa vuol dire? Vuol dire che a volte le nostre distrazioni, a volte anche la nostra stessa quotidianità, le cose che facciamo, ecco come ci ha ricordato all'inizio del brano del Vangelo, ci possono distrarre, ci possono distrarre la nostra mente e il nostro cuore verso cose, verso attenzioni, che poi alla fine addirittura possono mettere in pericolo la nostra adesione a Cristo stesso, ecco queste distrazioni pericolose, per combattere le quali e per contrastare le quali è necessario una vigilanza continua. Grazie a tutti. Ecco allora, qual è la nostra risposta a questo brano del Vangelo? Che cosa dobbiamo fare noi discepoli di Cristo per fare in modo che non siamo soltanto ascoltatori della parola di Dio, ma la cerchiamo e ci sforziamo di metterla in pratica? Allora credo che la risposta più opportuna sia quella di comprendere che cosa significa vegliare e stare pronti. Vegliare e stare pronti è certamente qualcosa che sappiamo bene che cosa significa. Significa essere consapevoli di ciò che accade dentro a noi stessi e ciò che accade intorno a noi, questa vigilanza. Ma che come possiamo essere attenti a ciò che accade intorno a noi e soprattutto dentro a noi stessi? Ecco, proprio credo che questa sia la nostra risposta al Vangelo di oggi. una maggiore attenzione a ciò che avviene nel nostro cuore, alle nostre motivazioni, alle cose che facciamo e alle ragioni per le quali le facciamo. Quindi vegliare e stare pronti significa domandarsi, credo, quali sono le nostre distrazioni, qual è ciò che nella vita, nella nostra vita, anche nella realtà quotidiana, ci preoccupa maggiormente. Ecco, a questa domanda ciascuno credo sia invitato a dare una risposta attraverso un esame attento del tipo di vita, dello stile di vita che sta conducendo. E questo, per riconoscere queste distrazioni, che ci possono addirittura allontanare da Cristo, è necessario mettersi in un atteggiamento di umiltà, umiltà di fronte a Dio e di fronte anche ai fratelli, alle persone con le quali condividiamo la nostra vita. Questo, quindi, questo esame delle nostre distrazioni significa anche dare un nome preciso a queste distrazioni, perché da questo, da quel riconoscimento di queste distrazioni, possa partire veramente un cammino di conversione. Ecco l'altra parola importante che può essere associata alla parola vegliare. Che cosa significa vegliare? Vegliare significa continuare o intraprendere un cammino di conversione interiore, che poi si riflette anche in una conversione dell'ambiente che ci sta attorno. Una volta che ci accorgiamo di quello che avviene attorno a noi, come cristiani, siamo chiamati a trasformare, a trasformare secondo i principi evangelici, quella, la realtà che ci sta di fronte. E quindi questo vegliare è una veglia, ovviamente, che comprendiamo assolutamente attiva. Non si tratta soltanto di aspettare in modo passivo, ma si tratta di vegliare con attenzione e con, direi, intraprendenza, lasciandoci guidare dallo spirito per attuare e rendere concreto un cammino di conversione interiore e di conversione comunitaria. Ecco, quindi, e come avviene questa conversione? Questo possiamo rendercene conto attraverso la consapevolezza e attraverso l'attenzione a riconoscere la presenza del Signore nella nostra vita. Gesù ha detto ai Suoi discepoli Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi se abbiamo riflettuto e se il brano del Vangelo ci ha invitato a riflettere su questa seconda venuta di Cristo, non dobbiamo dimenticare che Cristo è presente nella nostra vita, ci accompagna con la Sua presenza. Ovviamente Cristo è presente, realmente presente con il Suo corpo, la Sua anima e la Sua divinità nell'Eucarestia ed è presente con il Suo Spirito in mezzo a noi, vive con noi. Ecco allora, un cammino di conversione nasce proprio dal desiderio di riscoprire e di accorgerci della presenza del Signore che vive e che cammina con noi. Allora in questo modo possiamo iniziare e intraprendere il nostro cammino di avvento.